Avanzo ancora leggermente Sto avanzando Mi spaccano tutto, Steph Dammi una mano qua Ci provo Dove sei? Qui L'altro, l'altro, l'altro Dai Bravissima Stai calmeressa, mi stai calmeressa Perché devo fare uno contro due Non li so fare, gli uno contro due, Steph Non li so fare, ok? Mi stai facendovi l'ansia Random skin challenge, come funziona? Allora, dobbiamo andare nel nostro armadietto Selezionare una skin casuale E in base alla rarità che avrà quella skin Noi dovremmo utilizzare soltanto quella rarità in game Quindi cosa ne so, capita una skin di rarità blu No, Steph, no! Io ti dico, Fere, penso di avere parecchie skin leggendarie E in quel caso credo di essere un po' spacciato Detto proprio semplice Allora, vediamo, sto valutando il mio armadietto Ho tante skin leggendarie Oh, quante ne ho! Io ne ho tante, porca miseria No, tu ne hai più di me, però Ne ho tante viola, quindi epiche Ne ho davvero tante Qualcosina blu, quindi E pochi verdi Quindi dovrei essere proprio sfortunata A trovare solo verde Verde? Io non ne ho neanche una verde, Fere Io ne ho due Oh, quella praticamente Quella glu Noo È quella di Distant Petty Cioè, raga, ovviamente Vuol dire che se noi startiamo E abbiamo skin leggendaria Possiamo usare solo armi leggendarie E so che sembra figo Ma in realtà dobbiamo fare dieci minuti solo a piccone Di minimo per trovare un'arma leggendaria Quindi non è figo Vabbè, io vado Andiamo? Vado Vado in lobby Ok, mi è capitata quella di Twitch Prime gratis Che sinceramente non ho idea di che rarità sia Rarità leggendaria Leviatiano Ah, fammi vedere Perché tu ne ho vinto Tu quanto hai, Fere? Dov'è la mia? Secondo me È lì Viola Viola Epico Quindi epico E vabbè, se va così Scendo Scar leggendario Aspetti l'airdrop Poi Steph Dai, ce la puoi fare E ci vinciamo il game Ok Ok Io porca miseria Ho messo tutto randomico Le cuffie E ho una scia con le bollicine Uno zero che non c'entra nulla Un piccone ancora più fuori posto Adesso vediamo il deltaplano che va a me No, sarebbe stato carino Ho capito Io volevo fare che tutto era randomico In base alla realtà di ogni cosa Decidevamo l'arma che puoi prendere Quindi ogni slot era una cosa randomica Però poi boh Era un casino Forse è troppo incasinato Quindi direi di andare così semplice Rischiamo di non capirci manco nulla E già fare muschi Ma è messo l'ombrellino della vittoria Vabbè Quello di però è una season fa Sì Giusto? Ok Allora Hai visto qualcuno? Ti prego dimmi No, noi non possiamo fai dare Mi sa di no No, sì c'è un team Ah, ok Bene Bene Io sono bassissima Io vado verso destra Quindi mi tocca andare alla casa moderna Che probabilmente sarà piena E ci vedranno Vero? Eh sì No, sta andando più in alto lui Ok E ne vedo solo uno francamente Dammi qualcosa di viola Ti prego niente Io ho tratto blu Ah, le bende me le prendo Ok Ok So in che casa è? Però ne vedo uno di due Quindi non so dove è il suo amico Allora Ok Altre roba blu Ti prego qualsiasi arma viola Qualsiasi cosa Non c'è una ceppa Non c'è una ceppa Ovviamente posso prendermi almeno i colpi Raga Sì, certo Io quelli mi prendo Sapete almeno quello Faremo una brutta fine Lo so Ma bruttissima Ancora nulla Carca miseria Bene Arma è picca per te Uh, dove? P90 Vabbè, dove sei? Te l'ho preso io E adesso vedo Sei lontanissimo Tranquilla Se mi raggiungi te lo do così Almeno mi puoi difendere Ci provo, ci provo, dai Che fortuna Che schifo che fai C'è poi proprio il P90 Capito? Tu fai schifo Ma l'hai trovata tu Ti ho trovato anche le granate Quelle Viola Ok, ho capito Con le puzzolenti Sì, è dato Ti odio Il distributore l'hai fatto tu? Sì Vieni, vieni Mi devi difendere Vai, vai, vai Sì, qualcosina Ok Se vuoi tendo un po' Ok, a posto No, tanto se vanno bene Andiamo Allora, mi dovrebbe avere anche uno shieldone Nei shieldini oppure no? No No, non è niente Io l'ho visto lui, eh Sta nella casa Quella centrale Quindi si sta spostando in quell'altra blu Ok Ok Io continuo a vedermi solo uno Non lo so, Steph Magari uno solo No, no, sono due, sono due, sono due Ok, li ho visti Se stanno entrando Entrami in quella casa Ok Lo sto osservando Ok, se non entrami in quella Andiamo in questa Sì, ma devi far fare uno contro due No, vero Trovami l'arma leggendaria E non te la faccio fare Sì, ma non è l'ideale Infatti fare uno contro due Con solo questa arma Ok Chiudi le porte dopo che entri Sì, così non si accorgono Del nostro passaggio Esatto Eh oh, mi serve legna Steph, non rompere Ti prego Trova qualcosa Sì Sì Famas Eh vabbè Eh vabbè Dai, allora sì Si può fare Si può fare Fere, fere il pompa No mio Dio Ma che fortuna Ma è schifo Fai schifo Fai schifo Vabbè, grazie Steph, sei molto gentile Lo so che oggi Volevi farmi un sacco di regali Che bello, sì Allora va molto meglio Cavolo Molto, molto meglio Ma li sei già sparati? Eccot Hanno fucile a cecchini questi Bravi Allora ho tolto 30 HP a uno E 56 all'altro Ok E avevano vita entrambi Cavolo, siamo anche molto lontani Dalla zona Davvero? E occhio Eh sì, molto Che fortuna che c'è C'è porca miseria Ma Vabbè, Steph Tu hai avuto fortuna Non io Io non ho trovato una ceppa da sola Quindi che vuoi No Oh cavolo No, dovete avvicinarvi Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Cavolo, non ci arrivo Troppo lontani Non riesci a tirargli una di quelle granate? Eh, ci ho provato Ma vedi, va troppo sotto Perché se mi espongo mi cecchina E lì pronto Lo vedi? Sì Aspetta Vediamo se riesco a fare un lancio più alto Sì, l'ho preso L'ho preso Sta prendendo danno Sta prendendo danno 30 HP due volte uno Ok, ottimo Almeno sono anche A terra Bella Occhio, 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 occhio È vicinissima Tutto a posto? È lì a lato, è lì a lato il maledetto Vuole cecchinarmi, Steph Visto? Sì, ci ha provato 62 di hatchet A shield però Ok Le l'ho tolto Ma io ho paura Ma io ho paura Cioè, appena mi espongo Mi cecchina È pronto lì Vediamo Quanto lontani? Mamma mia, tantissimo Se riesco Cavolo, l'ho mancato Perché mi viene l'ansia E poi sta mitraglietta Non è molto mirata da lontano Cioè, andrebbe bene Per colpirlo da vicino È quello il problema Mi sa che lo lasciamo Sì, certo Però ne lo so Cioè, è anche il fucile a pompa Quindi non posso fare molto Aspetta, aspetta Che c'è Kina Il maledetto L'ho colpito L'ho colpito Morto, 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 morto Ok Era distrutto con te Ne ho approfittato Sta roba da lontano Non fa danno Però me l'ho colpito E comunque sono riuscita Allora, qua non possiamo prendere nulla Ok, vediamo che hanno Colpi Ok C'è Kina Caccia blu Non posso prenderlo Qua c'è roba blu Quindi niente Dobbiamo andare, giusto? Sì Purtroppo Allora, ci conviene Cercare una crepa, giusto? Perché ci sta arrivando la zona No, un trampolino Ok, a posto Ho anche 500 di legna Buono Scusa Tranquilla? Lei è aperta Come ci dovevo passare Tranquilla, tranquilla Ho 150 colpi Quindi va bene Ok Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Allora, se andiamo comunque Anche nella zona del burger Lo troviamo Per forza Sì, ma andrei No Andrei dritti per la zona Non dividiamoci, cara E tu stai andando dall'altra parte Allora, ricapitoliamo i problemi Io ho soltanto arma ranged E tu hai soltanto armi Dammi lì Esatto Ok Ok Oh, wow, wow, wow Non sono stata io Eh, lo so Non riesco a capire quale è tanto Ok, dietro di noi la crepa Ok Ci potrebbe arrivare alle spalle Ok Stiamo vicini, allora Mi sto avvicinando infatti subito a te Dai, ci mancate solo voi, raga Siamo out of zone Siamo out of zone Non fate scemenze Non rovinateci questa challenge Che io, sta fortuna, non la posso avere per altri sei mesi Sì, no, assolutamente, Steph Non puoi solo armi bianche in tutti i game È solo per questo Cioè, ma devi vedere le probabilità che c'era Mamma mia Eh, beh, meno male che ci è andata bene Non ti lamentare Per strai, raga, eh Per strai al momento Poi magari cancella Sì, ovviamente Uh Hanno preso Ok, l'altra crepa li vedo Loro non credo ci abbiano ancora visti Li vedi che stanno svolazzando? Eh, sì, ma penso che se ne vogliono entrare in zona Sì, sì, certo Che non vogliono scendere qua per Italia Però magari se ci notano Ci picchiano Ma secondo me non ci hanno notato Quindi, ok Secondo me stanno solo pensando a entrare in zona Te l'ho detto Safe, safe, safe Perfetto 34 vivi Siamo ancora tantini Ok Certo qua la faccio al volo? Eh, bisognerà giocarsela in modo molto intelligente Perché non possiamo andare così a muso duro A fightare Già Non avendo, cioè, dei loadout molto completi entrambi È solo quello il problema Cavolo Speriamo bene Andiamo, andiamo Un po' di legna preferisco sprecarla Non voglio prendere danni Nel possibile Ma un pochino li prendiamo Io ne ho poca Quindi non ti posso aiutare Ok Dai, 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 dai Tranquilla, tranquilla, tranquilla Ma io scudo le bende per curarci E tu i medikit comunque non è male Vabbè Sai che ti dico Mentre corri Mangiatela almeno una tortina qua Eh, cosa fanno? 10 di vita e 10 di shield Cavolo, non me l'avevo mai accorta Io ho fatto le torte Anzi, 5 e 5 Ok Ho fatto le torte solo per ballare, capite? Non mi sono resa conto che con le piccole si possono mangiare Infatti, penso che qualche consolino l'abbia appena scoperto Perché anche io l'ho scoperto così a caso Cioè andavo lì, ballavo e me ne andavo Eh, esatto Perché poi lo devi fare molto veloce Altrimenti ti sparano Quindi vai, balli e scappi Non è che stai a guardarti intorno A vedere se le cose spavano 28 vivi Siamo in un punto orribile Ed è lontanissima la nuova zona Avremmo avuto fortuna di armi Ma non di zone Quanto dobbiamo camminare? Sparano Appunto Piano Uh Eh, bello ma non posso Guarda qua quanto l'ho costruito Cavolo Sono di fronte a noi, eh È pieno di gente Vedo roba epica ma ci pensiamo dopo nel caso E poi mi sembrano le doppie pistole Però beh, farebbero comodo Eccoli, stanno faitando Ok, meno uno Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ah, sei male? Ce l'abbiamo fatta Ok, vediamo che c'è qua C'è il FAMAS spappola la gente Sì, le doppie pistole Sì, totalmente C'è un medikit che lo prendo Andiamo qua, razzi Calmi, 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 calmi Altre doppie pistole, Steph Non vedo niente di leggendario Però mi dispiace Ok Altro medikit Che io mi tiro adesso, eh Io mi tiro il medikit qua Pure io Tappa, 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 tappa E tiriamocelo Ok Calmi Vabbè, io le doppie pistole le ho prese Sono viola Sì, sì, sì Che devo fa? Che devo fa? Almeno una cosa che mi permette di sparare un pochettino più a distanza rispetto alle armi Io mi tiro anche questo oscillone Cioè, io sono un monoarma Tu ne hai tre almeno Sì Io ho visto uno lì alla destra Ho fatto doppia raffica da sei colpi Mi sono aiutato cinque volte Ciao proprio Anch'io l'ho colpito Però fa davvero poco Questa mentalità Sicuramente è straforte da vicino Capito? Sì, da vicino Vabbè è un mostro Perché non la trovo spesso Quindi non l'ho usata molto Non ci piace, è bellissima E cavolo, c'ho sfortuna Non la trovo mai E trampoliniamo? Sì No, troppo lontani Non lo voglio essere Sicura? Camminare Perché è utile tenerlo E allora andiamo Andiamo a piedi, dai Per ora andrei a piedi Se vediamo che la situazione è brutta Esatto, esatto Perché comunque Noi siamo più veloci della zona in questo momento Perché dopo l'update Le zone vanno più veloci Lo so Cioè, ci mette meno tempo a partire la zona Ma poi è più lenta Quindi in realtà è tutta una roba per far venire paura alla gente Far correre già E farli fightare mentre ci arriva la zona È un casino Bisogna sapersi da gestire bene Eh beh, l'hanno fatto anche per evitare che poi ti campri nelle zone fuori Capito? Almeno è più C'è più azione Però dobbiamo stare molto attenti intorno a noi Infatti i player di fronte a noi 75 gradi Minimo uno Due A uno ho tolto tutto lo shield Ok Un attimo Nel caso poi trampoliniamo Sì, cavolo, non volevo stare Ecco qua Ok A terra Ok Ho lasciato pochissima vita Così l'amico non ha Non ha spazio per restarlo Arrivo Dov'è l'amico però? Non lo so, erano in due Giusto? Sì Sì, ne ho visto due Dove è finito? Cioè scappato e l'ho mollato qua C'è il FAMAS Te lo prendo e gli andiamo? Ok Sì, 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 sì Trampolino? Sì, per forza Steph Troppo danno altrimenti So che è un peccato però Già Ok Eh, non so l'amico Cioè si è volatilizzato? No, so Tutto ok? Sì, sono caduta prima Quindi devo rientrare in zona Perché qua non ci so Non è che qui? Aspetta, arrivo No Boh Cioè ne ho visto due correre Pure io sono sicuro Sì, sì, Fere Sono due Sono due Sono due Li ho aiutati entrambi poi io Vabbè Magari si è spostato L'ha mollato E ce lo ritroveremo Antemi Ok, boh Buono, buono Così hai l'arma a distanza pure Vabbè, io ho quattro armi Ok Beh, quello è un buon MST-10 So che tu non lo ami il FAMAS Però È buono Filiati No, non lo amo Perché è parecchio impreciso Quindi è difficile da usare Preferisco le MST-10 classico Però, oh, che devo fare? Ci si arrangia con quello che sia Mancanza d'altro Certo che mi arrangio E poi ti arrangi C'hai quattro armi Disgraziata Eh, appunto Mi sono andato benissimo Ho tutta la barra viola Oh, hai sentito? No Stanno sparando sud-est Dove sei? Fa colpi Aspetta un attimo A terra? Ma tu sei sopra Aspetta che arrivo Uno morto? Sto sul tetto Sto arrivando Ah, eccoli Hanno provato a check-in-armi Sono due team Di uno ho killato un player Allora, 20 di shield A quello che si sta coprendo C'è gente sopra di noi Quanto sopra, Steph? Sopra la montagna, Fere Che cavolo Lì è pieno, Steph Attenzione, torna indietro Secondo me devi tornare indietro E stare un po' più riparato Eh, è difficile Siamo davvero pieni di team Ok, 20 di vita Quello l'hai buttato giù a terra? È davvero basso? No Però gli ho tolto 30 Ok, allora c'è tipo 40 di vita Temo, ci sia un altro team ancora lì Sì, dietro Dietro Gli ho visti C'è un altro ancora Per quello devi fare Attenzione, Steph Poi stiamo di nuovo lontanissimi Perché siamo sempre dalla parte opposta? C'è porca miseria Iniziamo a muoverci un po' Sì, andiamo via Andiamo via Cioè io li ho indeboliti tanto Ma 3 team è tosto No Vieni a restarmi Vieni a restarmi Lo so, è stata una scemenza To sto dicendo da due ore però Lo so, ma non pensavo Se stai ancora guardando a me Mettiti un muro Verso est E restami, vai Eh, ma qua probabilmente Ci pigliano da sotto Perché mi stavi ancora guardando? Cavolo No Due secondi Ok Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via No, aspetta 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 Affidati Sì, ma ci sta arrivando anche la zona addosso, Steph Tranquilla È lenta la zona Ok, andiamo Porca miseria Ok Che siamo proprio posizionati malissimo Corri, 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 corri Sì, sto correndo Sto correndo Che sfiga le zone, raga Che sfiga le zone Eh vabbè, abbiamo avuto fortuna in una cosa È difficile Due sono qua di fronte a noi Non spariamoli perché non facciamo in tempo No, no, certo Anch'io Cioè due sono di fronte E due ce li abbiamo dietro E due sono di fronte Non li vedi Siamo morti, eh Troppa gente, troppa Moriamo con onore ma siamo morti Oh, però c'è, stiamo a giocare bene Che vuoi Sì, 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 però siamo morti Stiamo a giocare bene Orribile situazione qua Beh, perché siamo sempre lontanissimi Siamo gli ultimi ad arrivare in zona È normale che ci troviamo svantaggiati Via, 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 via Posizionati Qua di fronte a noi, pronta? Sì Cavolo, siamo più morti che vivi Abbiamo anche quelli sopra Ok, 64, 64 Cavolo Avanzo ancora leggermente Sto avanzando Mi spaccano tutto, Steph Dammi una mano qua Ci provo Dove sei? Qui L'altro, l'altro, l'altro Dai Bravissima Stai calma e restami Stai calma e restami Perché devo fare uno contro due? Non so boffa io Non li so fare gli uno contro due, Steph Non li so fare, ok? Mi stai facendo venire l'ansia Tieni il medikit Maledetto Ce l'ho, ce l'ho già Schifoso C'è l'RPG Prendilo Viola È tutto viola in questo game Oh mio Dio Mi hanno sfiorato, Steph Mi hanno togliato i capelli Te lo dico già Buttami i colpi di me, 16 Almeno 200 Tieni, divido, divido È la mia unica arma Tieni, 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 tieni Cavolo, vorrei bermi lo scildone Tieni, tieniti qui Ok, ok Porca miseria Che ansia, che ansia, Steph Che ansia Allora, il cecchino non lo voglio Ai missili, 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 missili Eh, sì Dai, 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 tutto Pronta? Sì, più o meno E tieni un po' di mazze Eh, grazie Porca miseria Porca miseria All'ansia Eh, ma, cioè Siamo spacciate È presto divertente, dai Ma sono giocata bene Non so neanche come Di nuovo poi lontanissimi Sì, sì Ce ne va bene mezza Per le zone Uh, le vedi uno là 150 Non voglio spararlo Non voglio farlo arrabbiare Perché Ha il potere L'ho visto anche di fronte a noi Steph Facendo il giro della montagna Ce l'ho visto Non rompere Non rompere Sì, quindi di fronte a noi gli altri Sì Che fortuna C'è un panino Che andavano verso destra Verso destra però Maledetti Eppure Io mi sa che l'ho fatto un po' cadere No, a base gliel'ho colpita Sono troppo in alto Steph Zona Troppo vantaggio Ci hanno questi maledetti Ci sparano gli altri La montagna di fronte Di fronte, sì Porca miseria Mi sono chiusa da sola Rompi Costruendo in fretta Ok Io lo vedo quello, eh Ha saltato qualcuno Hai sentito? Steph Mi stanno Cioè Sono totalmente circondata Sono tu Non riesco a muovermi Con quei maledetti Stanno provando a cecchinare Totalmente Le senti? Comunque anche a me Sì è sembrato che qualcuno Abbia saltato col trampolino Porca miseria Siamo morti, eh Totalmente Mamma Se ti ho distrutto la faccia Dove ce ne abbiamo quelli su? Dietro Eh ma dove? Ok Gli ho distrutto tutta la base Comunque Quindi gli ho dato noia Non lo so Li sento qua Cecchina Li vedo Sono qua Oddio L'hai ucciso L'hanno ammazzati loro Cioè? Chi ha ammazzato chi? Questi qua Siamo due contro due? Sì Porca miseria Vieni? Sì Sto dietro di te Certo che vengo Però Aiuta L'ho ucciso Un attento Mi ha fatto un giro Mi sono girato E gli ho dato un colpo di poppa in testa Che game Cavolo Che game First try 10 kill Sempre fuori dalle zone Quelli lì sopra Come ce li siamo gestiti No contando che Eravamo a misvantaggio di armi E Fili ci può stare Ma siamo sempre stati In svantaggio di zona E ce ne siamo cavati Io comunque 3 kill 13 in tutto Mica male Ah no 7 più 3 cara Ho già fatto la somma 10 kill Mi dispiace Ah wow Bello Wow 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 Figata 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 È stato bello Ci fermiamo così raga Challenge davvero fighissima Natale Perfezione Sono felicissimo Grazie Qua sotto come sempre Compaiono nuovi video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao